Buongiorno e bentornati alle inchieste di Macete. Siamo qui oggi in Piazza Unità, nell'ufficio del sindaco, e gli porremo alcune domande che sono arrivate dai nostri ascoltatori. Perché i nostri ascoltatori hanno delle domande molto scomode per il sindaco. Buongiorno. Cioè Flavio, basta, questo cappello, sta roba del sindaco, non va in giro con questo cappello. Come si inventi queste storie? Cioè basta, basta, la gente non fa più ridere questa roba qua. Ok? Eh, basta, basta. Fa solo, fa solo. Buongiorno e benvenuti alle inchieste di Macete. Oggi siamo qui nel mio studio del sindaco per denunciare un grave problema. Sindaco. Eccoci carino. Buongiorno signor sindaco, il nostro pubblico vorrebbe fare alcune domande. Il signor Mario ci scrive, posso fare una domanda sulla politica internazionale? Certamente faccio una domanda sulla politica internazionale. Cosa ne pensa di sto G8? Io G8 non posso col dentista, mi dispiace, è una cosa che è. Il dentista, ho parlato, è bellissimo, poi ha tutto il studio pieno di lucette e non posso che. Rosalba ci scrive, è da molti anni che si parla della possibilità di fare, signor sindaco, un ponte diretto che colleghi Trieste a Mugia. Questo progetto è ancora al vaglio? Ma insomma è una cosa bellissima che abbiamo pensato noi di fare, questo ponte che parti direttamente da Piazza Unità e arriva direttamente in supermercato del Mugia che si parla della cosa bella. Lo chiameremo di piazza in piazza, insomma è una cosa nostra bellissima. Mi sembra molto interessante come progetto, veramente molto interessante. L'unica cosa che dico, guardi, lei deve ricordarsi che quando rispondi bisogna fare le guance della gioia, che se così la provi a fare così che è. Ecco, bravissimo, queste quasi le guance della gioia. Bellissimo. Gianna chiede, è vero che l'Unione Europea ha stanziato dei fondi per la valorizzazione del territorio? Cosa dice lei? Abbiamo dei fondi per la riconversione dei locali di Lepdense in Osmize, un progetto che si chiamerà De Palo in Frasca, che è una cosa bellissima che abbiamo noi. Mi sembra veramente una cosa molto intelligente. Allora Tullio invece ci fa una domanda sull'urbanistica e la viabilità. Urbanistica e viabilità, adesso devo chiedere il mio nuovo consigliere, che bisognava prendere un consigliere. Abbiamo trovato questo qua, questo ragazzo nuovissimo e bravissimo di me. Non è Bucci Bucci. No, Bucci Bucci purtroppo non lo troviamo più Bucci Bucci, è andato, adesso abbiamo il consiglio di me. E questo è top secret però, poi non so. Parliamo un altro momento, grazie carissimo, grazie. Tanto lo metto qua, che vuoi rendere in dei scienziati dopo. Ringrazio veramente di cuore il sindaco di Piazza per l'intervista di oggi, arrivederci alla prossima puntata sindaco. Carissimo, grazie. Vittorio, Giorgio, Giulio, segnate il nome di sto ragazzo che è bravissimo, è una cosa bellissima. Adesso andiamo insieme a bere un caffè, Giulio. Allora noi due prendiamo due neri per il Bavaro, Vittorio e Giulio, cosa prendete? Che bellissimo.